Buonasera, mi siedo perché è un po' facile gestire la gestualità stando seduti, non essendo un attore. Allora, Lucia di Lammermoor, La pazzia e la morte, naturalmente il titolo che riassume alcune delle caratteristiche di quest'opera che giustamente Simone Solinas ha definito forse la più romantica delle opere del repertorio italiano. Io credo che si possa partire proprio da questo, che cosa significava romantico nell'Italia operistica dei primi decenni dell'Ottocento? Tenendo conto appunto che il 26 settembre del 1835 Lucia di Lammermoor debuttò al Teatro San Carlo di Napoli. Debuttò e fu uno degli successi forse più limpidi di Donizetti. Lui stesso appunto scriverà all'editore Ricordi all'indomani dicendo piacque, piacque molto quest'opera. Con legittimo orgoglio lo comunica, lo comunica sicuramente avendo la consapevolezza che quest'opera era sicura, era un momento, rappresentava un momento particolare nella sua evoluzione. Nell'intervista che ha concesso il maestro Gianandrello Noseido sul giornale Sistema Musica parla di Donizetti che anticipa Verdi tra bel canto e romanticismo. Mi sembra una sintesi molto importante, non soltanto perché naturalmente viene dalla bocca di chi da questa sera la dirigerà, la dirigerà più volte e che quindi ha avuto la possibilità di entrare nel cuore della partitura, ma perché in generale significa riconoscere una centralità a Lucia degli Lammermoor. Una centralità che in realtà non è mai stata messa in discussione. Lucia degli Lammermoor è l'opera che ha contribuito a mantenere a galla, per così dire, tutto il repertorio donizzettiano dal 1835 a oggi. Di tutte le altre opere noi abbiamo seguito delle vicende carsiche. Qualcuna è sparita completamente, qualcuna è ritornata, poi disparita, qualcuna ogni tanto compare, lascia un segno forte ma poi per varie ragioni viene dimenticata. Lucia degli Lammermoor, esattamente come poi gli altri due titoli di altro genere, ovvero Elisir d'Amore e Don Pasquale, non sono mai usciti di repertorio. E hanno contribuito proprio a rappresentare non soltanto in maniera specifica quella fase molto caratteristica del romanticismo interpretato dal melodrama italiano, ma hanno anche contribuito a far capire come tutta la storia del melodrama dell'Ottocento italiano in realtà avesse dei fili comuni, fosse intrecciata tra un autore e l'altro, ci fossero degli scambi o perlomeno delle inavvertite, inconsapevoli ma forti parentele tra varie situazioni che si possono poi ricostruire attraverso le date, che si possono ricostruire attraverso le circostanze. Io credo che non si possa sottovalutare il fatto che quando nel 1839 Lucia di Lammermoor debuttò alla scala dalla seconda recita in poi, la parte della protagonista la cantava Giuseppina Strepponi, quando non era ancora la Giuseppina Strepponi di Nabucco naturalmente, ma che in quegli anni a Milano otteneva un grandissimo successo Lucrezia Borgia, che l'altra opera donizzettiana fortemente spinta verso avanti dal punto di vista dell'armaturgia che sicuramente Verdi vide più volte, esattamente come non si può dimenticare, anche se questa vicinanza è una vicinanza più di date che non di realtà, è il fatto che pochi giorni prima dell'andata in scena di Lucia di Lammermoor a Parigi morisse Vincenzo Bellini. Vincenzo Bellini che aveva conquistato la piazza di Parigi con i puritani. E che aveva vinto una sorta di piccolo derby italiano con Donizetti, visto che l'opera che Donizetti aveva presentato a Parigi, quasi in concorrenza appunto con i puritani, cioè Marine Fagliero, non aveva ottenuto quel successo. E che cosa significava ottenere un successo in quel momento a Parigi da parte di un compositore italiano? Significava esattamente quello che Vincenzo Bellini scrisse all'amico Florimo all'indomani del successo dei puritani sono stato finalmente riconosciuto come il secondo compositore italiano, virgola, dopo Rossini naturalmente. Quindi anche questo significava che le misure si prendevano tra di loro ed erano delle misure che però avevano un senso. Qualcuno ha voluto addirittura dire che Lucia di Larmorum è la risposta di Donizetti ai puritani di Bellini. Ovviamente non è vero, però è un'ipotesi molto suggestiva, soprattutto dal punto di vista concettuale. Voi avete avuto la fortuna tra l'altro di ascoltare proprio non molti mesi fa una bellissima edizione di Puritani e quindi sapete benissimo di che cosa si parla. Si parla sicuramente di due opere, di due ambientazioni, di due momenti di teatro che effettivamente hanno qualcosa in comune. C'è una follia, c'è un'ambientazione nordica, c'è una suggestione legata al mondo romantico e romanzesco di Walter Scott. Ci sono tante situazioni che possono essere messe a confronto l'una con l'altra ma con delle risoluzioni che invece conducono in maniera diversa. Bellini a confermare se stesso, Donizetti a cercare una strada nuova. Questa strada nuova è una strada che appunto noi genericamente riconosciamo nell'idea di romantico. Ma che cos'era il romantico nell'ambito del melodrama italiano degli anni 30? Era un qualcosa che aveva una definizione oppure non l'aveva? Era un qualcosa che proprio attraverso Lucia di Lammermoor ha cominciato a trovare una propria determinazione? Oppure Lucia di Lammermoor raccoglieva qualcosa che esisteva già? Io credo che non si possa rispondere in maniera univoca a questa serie di interrogativi. Bisogna rispondere un po' alla volta. E l'un po' alla volta potrebbe partire proprio da ciò che è l'antefatto di Lucia di Lammermoor, ovvero l'antefatto letterario. Nel 1819 viene pubblicata The Bride of Lammermoor, appunto il grande romanzo di Walter Scott, uno dei romanzi che ebbero più successo in tutta Europa, in una maniera quasi fanatica. Se pensiamo che due anni dopo l'uscita di questo romanzo, della Croix si dipinse un autoritratto meraviglioso nei panni di Edgardo di Ravenswood, quindi con tutto nero appoggiato a una pietra che sembra appunto quella della tomba, non lo so, probabilmente c'è anche sul programma di sala, c'era sicuramente sul programma di sala della volta scorsa. Quindi due anni dopo evidentemente la fama di questo romanzo era uscita dall'ambito letterario, era diventata una fama molto più attraente e molto più piena di suggestioni. Queste suggestioni erano proprio perché in questo romanzo, più che in altri, sembrava che Walter Scott avesse centrato una serie di situazioni che poi il romanticismo avrebbe fatto proprio, avrebbe fatto diventare come delle specie di situazioni che riassumevano tutto ciò che noi oggi definiamo come romanticismo. Riassumevano nel senso che c'erano tante cose, l'elemento ambientale, il soprannaturale, il fatto della pazzia, il fatto delle lotte all'interno, quindi un fatto anche storico, sappiamo benissimo come romanticismo, soprattutto nell'ambito del romanzo è legato alle vicende storiche, anche se queste vicende storiche sono intrecciate a delle vicende più aneddotiche, perché il fatto sembra effettivamente avvenuto, o un fatto simile avvenuto verso la fine del Seicento. Lo stesso Walter Scott nel finale del penultimo dei 25 capitoli che formano Lucia di Lammermoor, proprio raccontando della sorte di Arturo che nel romanzo non muore, ma a un certo momento scompare, se ne va, emigra e non vuole mai più parlare di questa cosa, si dice, nelle ultime due righe si dice le cose, noi sappiamo come sono andate, perché in realtà queste cose non sono completamente inventate. Quindi c'erano tanti di questi elementi, elementi di cui poi la tradizione popolare, la tradizione popolare che è stata volgarizzata prima dalle traduzioni francesi e poi dalle traduzioni nelle altre lingue, cui l'Italia si aggiunge con molta rapidità, perché nel 1821 appare già la prima traduzione di Lucia di Lammermoor o della sposa di Lammermoor a cura di Gaetano Barbieri, viene pubblicata a Napoli, Napoli che con Milano è il centro dell'editoria legata a Walter Scott. Anzi addirittura questa traduzione è la prima di una collana proprio dedicata alla traduzione dei racconti e delle novelle di Walter Scott, che evidentemente funzionavano, perché nel giro di una decina d'anni in Italia c'erano almeno una quarantina di traduzioni diverse di alcuni soggetti popolari e anche di altri soggetti un po' meno popolari. Ma comunque c'era un mondo che si era mosso, che si era immediatamente accodato a tutto ciò che questa immaginazione così nordica, così lontana della tradizione italiana, suggeriva e suggestionava. Per l'amor del cielo, Walter Scott non è Shakespeare, anche se qualcuno lo legò, volle avvicinarlo a Shakespeare, anzi per certi versi era uno scrittore abbastanza popolare, facile per certi versi. Benedetto Croce nel 1923 scrive una delle più divertenti stroncature proprio di tutta l'opera di Walter Scott in questa chiave, scrivendo l'opera di Scott è un mercato di oggetti dei quali era altrettanto viva al tempo la richiesta, quanto legittimo il bisogno. La stroncatura è senza possibilità di replica, senza appello sicuramente, ma nello stesso tempo è anche una indicazione precisa, come spesso le stroncature intelligenti sanno essere, di ciò che effettivamente l'ambiente, soprattutto un certo ambiente borghese del tempo, voleva trovare nel piacere della lettura. Non dimentichiamo che in Italia si stava vivendo anche questo momento letterariamente abbastanza confuso, ma vivacissimo che era quello legato alle polemiche sulla traduzione dei classici, sulla traduzione degli altri autori nelle lingue italiane, la polemica di Madame de Stel e via dicendo, aveva creato proprio un humus culturale particolarmente attento a questo tipo di mondo. La cosa curiosa però è che all'accanto a questa tradizione letteraria di traduzione, che tra l'altro è anomala anche rispetto alle normali vicende letterarie italiane, normalmente in Italia venivano prima importati non i testi originali, ma i testi che erano già diventati dei testi teatrali. E poi arrivava l'originale, il romanzo. Nel caso di Scott invece arriva prima il romanzo e poi arrivano le versioni, arriveranno le versioni teatrali. Con una sola eccezione, che è la musica, perché tutto sommato la penetrazione della musica è precedente a quella penetrazione editoriale cui facevo accenno. Nel 1819 Andrea Tottola, un letterato napoletano, traduce e riduce a libretto per Rossini la Donna del Lago. La Donna del Lago che è diciamo proprio l'irruzione di quel mondo sul palcoscenico del melodramma italiano. È un'irruzione fragorosa perché significava scompaginare tutta una serie di situazioni che il melodramma oramai aveva acquisito e sul quale stava tranquillamente riscuotendo le proprie rendite. In quanto non ci si occupava di fatti legati alla storia, le ambientazioni erano ancora parasettecentesche, i soggetti erano preferibilmente di carattere neoclassico, il lieto fine o comunque il finale non tragico era considerato se non un obbligo ma comunque una buona norma per poter avere successo e via dicendo. Già nel 1819 con la Donna del Lago alcune di queste regole vengono scompaginate. Viene scompaginata sicuramente quella dell'ambientazione, viene scompaginata quella anche dell'elemento per esempio di attualità. Madonna del Lago ha in trasparenza tutta una lettura della realtà in chiave insurrezionale, in quel caso l'insurrezione delle popolazioni scozzesi, ma non era difficile poi fare vedere in trasparenza la proiezione su alcune e sulle prime agitazioni insurrezionali italiane che portava sul palcoscenico dell'opera un elemento di realismo o comunque di legame con l'attualità che era assolutamente nuovo. Però non voglio divagare troppo su questo, ma è per dire che da un certo punto di vista e anche guardando la cronologia di tutti i soggetti che poi gli autori italiani cavarono da Scott si può dire che da un certo punto di vista arrivò prima la musica che non la letteratura a dare proprio immediatamente la sensazione che questi soggetti potessero essere interessanti e fossero una novità. Non dimentichiamo che l'opera italiana appunto era ancora in una fase di ricerca. L'interruzione volontaria di Rossini nel 1829 con Guillaume Tell aveva interrotto un'evoluzione, ma forse Rossini non sarebbe stato l'autore in grado di portare avanti queste vicende nuove, ma certamente si stava cercando. Lucia di Lambermann era un soggetto che evidentemente si prestava molto. La realizzazione di Donizetti del 1935 è una realizzazione che arriva dopo molte altre. Noi pensiamo sempre che sia stata una scoperta in assoluto. No, ce ne erano state parecchi in precedenti anche da autori abbastanza importanti come Caraffa, come Mazzocchetti con un certo successo e quindi c'era già, si conosceva un po' questa storia. Ma tra il conoscere la storia e individuare gli elementi che della storia potevano fornire una dinamica nuova, una energia drammatica nuova e originale, ce ne passava. Nel caso specifico ci passavano due elementi. Uno, il fatto di trovare un librettista abbastanza intelligente per poter verificare quali potessero essere gli elementi importanti da mantenere del romanzo nel libretto. E Salvatore Cammarano, il giovane Salvatore Cammarano, che debutta proprio come librettista importante con Lucia di Lamarum, ma poi diventerà il librettista Donizettiano per Antonomasia con oltre nove libretti, poi lavorerà, come sappiamo, con Verdi. Purtroppo morirà molto giovane, perché muore nel 1952, a poco più di 50 anni, fu il personaggio decisivo. E questo è il primo elemento, cioè la scelta di come isolare gli elementi che portassero sul palcoscenico un modo di raccontare le vicende in maniera nuova, ma nello stesso tempo che tenessero conto degli elementi che l'opera invece non poteva ancora abbandonare. Cioè l'opera aveva delle strutture, quelle strutture non potevano essere abbandonate così dalla mattina alla sera. Occorreva che venissero abbandonate progressivamente. L'opera aveva un meccanismo di produzione che era fatto in un determinato modo, un teatro non poteva inventarsi un'opera qualsiasi, un teatro commissionava, metteva insieme, realizzava un'opera in funzione degli interpreti che aveva, del tipo di pubblico che aveva e via dicendo. Quindi trovare librettista capace di interpretare queste due tensioni, la tensione sicuramente verso il nuovo, verso questo nebuloso ma affascinante mondo romantico e invece il poco nebuloso e molto solido mondo del melodramma e dell'opera che fino a quel momento aveva conquistato il pubblico era veramente un passo decisivo. Salvatore Cammarano lo è sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista pratico perché Cammarano da qualche mese era stato ingaggiato dal Teatro San Carlo in un doppio ruolo di poeta drammaturgo e concertatore. Questo termine, il secondo termine sostantivo concertatore noi non dobbiamo considerarlo nell'accezione moderna, noi oggi loggiamo maestro concertatore e direttore d'orchestra. Intendiamo con questo colui che concerta, che fa le prove prima di preparare l'esecuzione con l'orchestra. In realtà per tutto l'Ottocento e anche per parte Novecento il concertatore in realtà era colui che svolgeva un ruolo che stava diciamo nell'anticamera del ruolo del regista scenografo. Nel senso era colui che si occupava della messa in scena poi reale delle opere. Occuparsi della messa in scena e occuparsi del librettista significava ovviamente avere le mani in pasta e accorciare, oggi diremmo un chilometro zero alimentare. Il librettista sapeva già che cosa poteva poi realizzare in scena e quindi poteva anche agire in maniera da poter seguire le necessità del palcoscenico oppure in modo da creare qualche frizione col palcoscenico ma motivata, oppure inserire degli elementi letterari che favorissero determinati passaggi di palcoscenico. Per esempio non c'è dubbio che il recitativo che nel libretto è posto dopo la scena della pazzia e prima la scena di Edgardo fosse un recitativo funzionale al fatto che ci doveva essere un cambio di scena. Probabilmente questo recitativo avveniva con un velario calato e dietro c'era il cambio di scena tra le stanze di Lucia e la scena delle tombe dei Ravensfood dove appunto ci sarebbe stata la morte di Edgardo. Ma tante altre situazioni ci fanno capire questo tanto. Anche perché poi Cammarano scriveva proprio, faceva dei piccoli schizzi, alcuni di questi schizzi per esempio riletti oggi, anche se non è specificato, sembrano quelli che sistemavano le posizioni del finale del secondo atto. Un momento dell'arrivo improvviso di Edgardo, del grande concertato, questo momento di grande sconcerto. E queste posizioni erano già preparate. Quindi diciamo c'è un uomo di teatro molto forte. Questo uomo di teatro è colui che fa in modo che per esempio le vicende del romanzo di Scott praticamente viene presa una parte iniziale, una piccola parte centrale e poi il romanzo di Scott va avanti per oltre 20 capitoli, Edgardo arriva al 23esimo capitolo su 24, tanto per capirci. Quindi tutto avviene poi in un schiacciato, mentre nell'opera sappiamo benissimo che viene equilibrato con il resto. Quindi questa è una scelta molto precisa ed è una scelta che ovviamente ha già in mente un qualcosa che poi la musica renderà decisiva. E qui si entra nel secondo elemento vincente di Lucia di Lammermann. Lucia di Lammermann è sicuramente, perché ne abbiamo le documentazioni, lo capiamo dalle lettere di Donizetti, da vari accenni, è sicuramente un'opera nella quale non si avverte, oppure non c'è stato, come in altri casi, un lavoro in parallelo, ma non mai convergente tra librettista e compositore, ma un lavoro che convergeva tra librettista e compositore. Tant'è che oggi gli studiosi sono anche propensi a pensare che forse l'idea, la prima idea di Lucia di Lammermann, quell'idea di cui Donizetti parla appunto nel maggio, già del maggio dello stesso 35, il ritorno del mio poema per il San Carlo, che sarà la sposa di Lammermann, la chiama, siamo nel maggio del 1835. Sappiamo che poi dopo dalla decisione alla realizzazione del libretto, alla composizione, poi passerà un tempo prodigioso, brevissimo. La lettera ufficiale del 16 luglio in cui dice che la partitura era finita, però in realtà in partitura Donizetti scrive addirittura il 6 luglio, poco meno di 30 giorni per fare il tutto. Quindi dicevo, c'è un rapporto specifico, c'è un rapporto diretto, cioè tra librettista e compositore. Questo va sottolineato anche perché noi siamo un po' abituati a iniziare la storia dei rapporti tra i musicisti e i librettisti con Verdi, mentre in realtà questo rapporto iniziava molto, era iniziato prima. Per Bellini era un rapporto più legato alla qualità del verso, non a caso, per l'appunto poi Bellini si lega a un librettista così accurato nella configurazione testuale, nella configurazione delle immagini, nella leggerezza anche della lingua che Felice Romani, poeta con il quale invece Donizetti non ebbe dei buoni rapporti, probabilmente proprio perché lui voleva metterci il naso anche nella versificazione. Donizetti invece lavora bene con Cammarano perché evidentemente c'è la possibilità di dialogare direttamente e soprattutto trova in Cammarano una librettista che gli consente di leggere già nei versi un qualcosa che poi lui musicalmente avrebbe potuto mettere in pratica, che avrebbe potuto musicare. Questa capacità di leggere è una capacità importante ma è una capacità che è la vera caratteristica di Cammarano. Per cui continuando con il gioco chi è il più romantico di tutti, gli studiosi di librettisti oggi considerano Salvatore Cammarano come il più romantico dei librettisti italiani proprio perché aveva saputo cogliere i soggetti giusti, li aveva saputi ridurre al punto giusto, ma aveva saputo anche interpretare in maniera attiva, propositiva, non semplicemente servile o di semplice servizio il ruolo del librettista. Tra l'altro questo lo possiamo immaginare se pensiamo a questa straordinaria realizzazione librettistica, una sorta di riassunto di tutto il melodramma dell'Ottocento che sarà Trovatore. Oltretutto un libretto che per certi versi Lucia di Lammermann anticipa, non tanto ovviamente nel soggetto che è completamente diverso, ma per alcune qualità letterarie. Non c'è un libretto credo prima di Trovatore che sia così ricco di aggettivi e sostantivi che indicano elementi che si incendiano, incendiari, degno e si incendia, infiamma il fuoco. Se provate a leggere il libretto isolando questo vi rendete conto che è una specie di polveriera. Ogni espressione viene legata ad un'immagine di fuoco e siccome sappiamo benissimo che poi Trovatore sarà l'opera proprio in cui il fuoco diventa non soltanto un'immagine ma diventa una specie di fulcro drammatico perché raccoglie e raccorda praticamente tutti i destini dei personaggi questo può essere una suggestione in più di tal genere. Quindi una situazione effettivamente particolarmente felice. Una situazione particolarmente felice che naturalmente si innesta anche nella passione che Camarano ha per i testi di Scott. Lui lo chiama nella prefazione al libretto la riosto scozzese ma poi fa anche tante altre derivazioni altrettanto importanti. Qual è l'elemento prima della musica e al di là della sceneggiatura da cui riusciamo a capire quanto di Scott Camarano seppe mantenere nel libretto? Ma io credo che, credo, la realtà lo dice, sono le didascalie. Il libretto di Lucia di Lammermann è un libretto in cui la didascalia è molto importante. La didascalia scenica, a parte il fatto che alcune didascalie sceniche, per esempio quella della seconda scena, è quasi tradotta letterariamente da un passo del romanzo di Scott, l'immagine della fontana, dei ruderi, eccetera, eccetera. Ma poi in generale troviamo tutta una serie di situazioni che vengono riprodotte con molta precisione. Ma quali sono le situazioni? Le situazioni attengono a due momenti. Uno è quello dell'ambientazione. L'ambientazione nordica viene ripresa pari pari con tutto il suo carico di immagini, se vogliamo anche aneddotiche, di archi spezzati, di torri sbrecciate, di temporali, di situazioni notturne. L'opera praticamente si svolge sempre o quasi sempre di notte. È di notte la prima entrata di Lucia e tardo pomeriggio la cerimonia nuziale e quindi l'uccisione avviene di notte e albeggia quando Edgardo ricompare in scena. E ovviamente di notte la scena del duello, o almeno della promessa del duello, quella della torre, quella che per tanti anni è stata tagliata, che apriva il terzo atto. E in generale diciamo questo clima, perché? Perché era un clima che riusciva a dare immediatamente una sensazione di drammaticità molto più forte e anche molto originale, che attraeva, perché la gente era veramente… chi leggeva i lettori o gli spettatori erano attratti da questo mondo, che era un mondo nuovo. Era un mondo molto nuovo. Pensate che quando Lucia di Lambrug viene rappresentata al San Carlo di Napoli, le opere… non esisteva ancora un'opera, o almeno non esisteva, non era mai stata rappresentata al San Carlo un'opera che avesse una situazione, come dice la copertina di questo libretto in cui il sangue avesse un'importanza così decisiva. Praticamente non vediamo la morte del povero Arturo, però praticamente vediamo la pazzia di Lucia e vediamo il suicidio di Elgardo. L'idea del sangue era una cosa che non era molto amata, tant'è che prima di Lucia i successi che Donizetti aveva ottenuto a Napoli, dove peraltro era praticamente uno dei compositori fissi da alcuni anni. Sappiamo che le vicende con Napoli furono vicende molto contraddittorie, poi si risolsero male perché avrebbe voluto diventare il direttore del conservatorio San Pietro Maiella alla morte di Zingarelli, poi la sua domanda non venne accettata perché era uno straniero, esistevano anche loro e già allora gli stranieri e queste forme di chiusura. Però le opere precedenti erano opere in cui tutto sommato non c'era una situazione di questa drammaticità. quindi da un certo punto di vista Lucia introduce anche un elemento forte, fortemente drammatico in cui appunto il sangue ha la sua importanza, anzi un'importanza enorme nel racconto. Quindi con Cambarano tutti questi elementi li troviamo e sono gli elementi che compaiono soprattutto nelle prime didascalie, ma naturalmente la didascalie in sé non avrebbe senso se non corrispondessero a qualcos'altro e il qualcos'altro è che comunque l'ambientazione nottura, l'ambientazione gotica, l'ambientazione decadente, l'ambientazione diciamo così caratteristica anche se in realtà il libretto anticipa di un secolo la collocazione storica che aveva voluto Scott perché la porta alla fine del Cinquecento mentre il racconto di Scott è alla fine del Seicento, dicevano non avrebbero un senso, diventerebbero soltanto dei giocattoli da affidare agli scenografi se non ci fosse la corrispondenza che invece nel carattere dei personaggi. E anche qui la didascalia è molto importante. Il duetto del secondo atto tra Enrico e Lucia è uno dei primi duetti in cui già nel libretto noi troviamo tutta una serie di indicazioni che attengono ai comportamenti dei personaggi. Lucia viene immediatamente descritta per come viene dentro, come entra nella sala, per come s'atteggia, per come è piena di dubbi, per come è spaventata, per come reagisce e via dicendo. E quindi in pratica c'è un tipo di cornice ambientale che poi diventa il nucleo forte, il nido in cui si raccolgono invece degli elementi più specificatamente individuali. E questo è sicuramente una sorta di pista di lancio che il librettista fornisce più o meno volontariamente, più o meno in collaborazione al musicista. Perché se c'è un'opera in cui gli elementi esterni entrano quasi direttamente nel cuore dei personaggi se sembrano quasi modificare o comunque guidare o orientare alcune delle loro azioni e reazioni, questo è Lucia. Ed è la ragione per cui noi ogni volta, almeno io ogni volta, che entro in tuoi ato dove c'è Lucia di Lammarmurro, rimango emozionato e aspetto l'inizio. Aspetto l'inizio perché mi sembra che veramente sia una quinta che si apre. Ed è la quinta nella quale chi è appassionato di opera o comunque di romanticismo narrato attraverso la musica non può che riconoscere effettivamente quello che noi chiamiamo romanticismo. È una quinta semplice. Musicalmente è fatta di pochi elementi. Ma la cosa importante è, uno, il modo con cui questi elementi vengono utilizzati e soprattutto la coerenza con cui gli stessi elementi vengono utilizzati nel corso dell'opera. Lucia inizia, è un'opera che inizia senza una nota ma con un effetto. Cioè le note sono scritte ma siccome le prime note sono affidate alla gran cassa e ai timpani noi non abbiamo la sensazione ovviamente della nota, non ci interessa la nota, ci interessa l'effetto. Timpani gran cassa significa attesa, significa trepidazione, significa semplicemente una specie di squarcio di sipario che ci porta ad ascoltare meglio, che ci dispone ad ascoltare quello che succede dopo. E quello che succede dopo è una delle voci caratteristiche della partitura che sono i corni. Le terze dei corni ci dipingono immediatamente un qualcosa che l'opera italiana fino a quel momento non aveva ancora sentito. E' un qualcosa che è talmente forte per cui dopo l'opera italiana se ne sarà sempre ricordata. Ha dovuto ricordarsene perché se ne ricorderà sicuramente Verdi, se ne ricorderanno gli autori successivi. Proprio uno squarcio, è come un sipario e un velario diverso. Questo tipo di colore però, ripeto, non avrebbe avuto, sarebbe semplicemente stata una trovata del momento se non fosse stato poi coerentemente usato da Don Izzetti lungo il corso dell'opera. Ed ecco che, per esempio, in varie situazioni, e adesso ne ascoltiamo tre, molto brevi, proprio per capire. Ascoltiamo l'inizio dell'opera con questa idea. Immaginate, voi dovete, anche se è un video, ma naturalmente è un preludio ed è un'introduzione, quindi naturalmente non si vede che l'orchestra, ma dovete proprio immaginare quel mondo, il mondo del bel canto, il mondo delle situazioni in cui in fondo tutti i sentimenti venivano risolti proprio con il bel canto e quindi in una chiave trasfigurata, in cui immediatamente viene riversato un inchiostro diverso, un inchiostro così cupo, così tenebroso, come appunto l'inizio dell'opera. Sentiamo, ripeto, tre brevi estratti proprio da tre scene dell'opera. Uno è il preludio, l'altro è l'inizio del racconto, del primo grande racconto inquietante di Lucia, e poi l'attacco del secondo atto, quell'atto che è delegato a rappresentare il grande scontro tra i due fratelli, e oltretutto uno scontro che si compone anche di elementi sia personale sia di elementi, per così dire, politici, perché sappiamo benissimo che intorno alla storia, al nucleo della storia, c'è la contrapposizione di queste due famiglie, una anglicana e una cattolica, e le litigi che nel corso dei secoli le avevano portate ad allontanarsi. Credo che non occorre aggiungere molto a questi ascolti, avete sentito benissimo come certi colori rientrano, il bellissimo controcanto del corno nell'evocazione di Lucia, e soprattutto questa straordinaria introduzione. Ora pensateci bene, noi siamo alla, pensate a una qualsiasi altra opera in cui si apre una scena sugli appartamenti di un castello. Nessuno avrebbe potuto immaginare, tanto se mi preparo poi gli altri, immaginare un tipo di introduzione di questo genere, se non nella prospettiva di ciò che sarebbe venuto dopo. In fondo era un interno, sarebbe bastata una musica, diciamo, ordinaria, dopo magari poteva caricarsi. Invece già Donizzetti ci dà questa cupezza, e soprattutto con tre elementi musicali, ci dà il cuore drammatico di quello che avverrà dopo. Cioè il grande, drammatico, confronto tra i due fratelli e soprattutto tra la durezza, questa solenne esposizione proprio tematica, sostenuta da questi cattivi quasi pizzicati, e invece la parte dolce, anche la parte di Lucia. Cioè il gioco praticamente viene anticipato in 90 secondi quello che sarà il nucleo musicalmente forte, dal punto di vista drammatico, di quello che avverrà dopo. È una straordinaria invenzione questa della storia dell'opera italiana. Perché appunto normalmente, o fino a Lucia di Lammerburg, si tendeva a risolvere le varie questioni di carattere espressivo, narrativo e drammatico, direttamente nel canto. Qui abbiamo già invece un'altra soluzione, che è quella, oppure, sappiamo benissimo, Donizzetti ha scritto delle bellissime altre sinfonie d'opere, brillantissime, molto divertenti, molto efficaci, scritte strumentalmente in maniera egregia. Però uno è fare una sinfonia e un altro è creare con l'introduzione immediatamente la necessità che l'ascoltatore si predisponga a vedere un qualcosa che non sarà un'opera come le altre. Questo è, diciamo, un elemento facilmente caratteristico. Magari dopo, se avremo tempo, sentiremo anche l'inizio dell'ultimo quadro, che è altrettanto drammatico. Ma, se vogliamo, quello porta alla morte di Edgard e quindi va anche più bene. Siamo in un cimitero, in una serie di sepolcri, quindi quello ci sta anche bene, anche se comunque l'idea di ambientare e di costruirci sopra una musica è originale. Ma il lavoro di Donizzetti, il lavoro musicale di Donizzetti che rende questa opera così straordinaria è soprattutto un'opera in cui non si smette mai di scoprire qualche cosa. Credo che sia veramente una delle opere che ogni volta che si ascolta o che si studia apre alla fantasia, ma anche proprio alle emozioni, delle suggestioni nuove. Dicevo, Donizzetti si muove anche in un altro modo, in un modo più sofisticato. Un modo sofisticato che attiene non soltanto ai colori che comunque ci sono dell'orchestra o di alcuni elementi di orchestra presi in maniera, in gruppo, ma anche all'uso nuovo, in alcuni casi, dell'armonia. Semplicissimo, ma la semplicità è quella che diventa vincente. Oppure l'uso di alcuni strumenti caratteristici che vengono legati in maniera stabile, finiscono come essere dei piccoli fili che ci accompagnano ai personaggi o addirittura alle sensazioni, alcune delle sensazioni dei personaggi. A questo proposito io volevo portare la vostra attenzione su una pagina che conoscete benissimo. Infatti sentiamo soltanto l'inizio del duetto del primo atto. Quindi facciamo un passo indietro dal punto di vista del racconto. Ovvero il momento dell'incontro tra Edgardo e Lucia. Il momento in cui appunto Edgardo ricorda, rievoca il giuramento che lui ha fatto sulla tomba dei genitori di essere in guerra continua appunto in Ravenswood. Al tuo sangue, eterna guerra, io giurai nel mio furore. Ma tu i vidi, incormi in acque, al traffetto e l'ira tacque e via dicendo. Lucia risponde. Nella tradizione normale, ordinaria, diciamo, del melodramma di quel tempo, i duetti erano costruiti praticamente appunto una frase a uno degli interlocutori, l'altra frase a l'altro interlocutore, quasi sempre era la stessa frase o la frase musicale diciamo abbassata o alzata di una terza. Insomma per creare, ma tendenzialmente era la stessa frase dopo di che si riunivano insieme. è la vecchia regola del duetto, quella che dall'aciderem la mano in poi praticamente è sempre stata abbastanza utilizzata e che è stata utilizzata per tante cose, che poi viene man mano spezzata fino ad arrivare a quei duetti diciamo tutti completamente di azione, come quelli del secondo atto di Traviata tra Germont e Violetta. Qui non abbiamo ancora questo tipo di capacità di spezzare, però c'è una trovata. Da una parte diciamo c'è l'uomo che è innamorato e disperato, questa passione disperata, e dall'altra c'è lei che invece è la passione dolce. Quando Lucia dovrebbe entra nel suo ruolo, nel momento in cui ci aspettiamo che lei risponda, lei entra come giusto, solo che risponde con una frase d'altro genere che è musicalmente cambiata semplicemente perché Donizetti cambia la tonalità. Senza modulare, semplicemente una tonalità è in minore e un'altra in maggiore. È un'osservazione, se volete soltanto tecnica, ma proviamo a legarla al fatto come con questo passaggio tecnico che era anomalo per il momento del tempo. Oltretutto è un passaggio che tra l'altro ha anche in questo caso una grande coerenza perché poi pian piano queste tonalità poi si uniscono le voci, verranno modulate e porta verso la tonalità che poi sarà quella del grande canto finale del Verranno a te sul lauree. Ma semplicemente questa immissione di un colore armonico, quindi non è più un colore ma un colore armonico, ci dà immediatamente una tracciata, un profilo delle due personalità come non potremmo immaginarlo meglio immediatamente. Infatti lei risponde, Detti calma, Detti frena e via dicendo. Ma sentiamolo proprio l'effetto. La prima grande lucia moderna, per così dire, con una chiave anche stilisticamente più attrezzata e più importante e soprattutto l'opera con la quale Claudia Bado aveva iniziato il suo periodo di direzione musicale alla Scala. L'anno prima aveva diretto Capuletti Montecchi, quindi guarda caso, a Bado che noi lo consideriamo un direttore che poi si è espresso nella musica moderna, in Verdi, in Wagner e tanto altro, inizia proprio con due opere così caratteristiche del belcantismo, Capuletti Montecchi e Lucia di Lamaro. Io ho scelto degli esempi molto lineari proprio perché non c'è neanche bisogno di commentarli, è talmente forte ed emozionante l'effetto immediato di questa soluzione, che non è un effetto traslato come quello del belcantismo, è un effetto immediato, quasi realistico. Si vede il gesto di lei, almeno a me sembra di vedere ogni volta proprio il gesto di lei, che è meraviglioso dal punto di vista musicale. L'altro elemento che ho anticipato appunto è anche quello degli strumenti caratteristici. Prima abbiamo sentito appunto i timpani, il corno oppure questo gesto dei pizzicati, lo troveremo anche nella scena della torre certamente in maniera forte, ma poi ci sono proprio degli strumenti specifici che sembrano, anche questi, legati a degli stati d'animo molto precisi, generici. Uno di questi è sicuramente il flauto. E qui ci sarebbe tutta una storia da raccontare molto lunga, ma cerchiamo di sintetizzarla in questo senso. Partendo anche qui da un piccolo ascolto. All'ascolto riguarda il momento del duetto tra Enrico e Lucia. Il momento, diciamo, quando Lucia viene messa al corrente della finta lettera del tradimento di Edgardo e quindi si ritrova appunto in questo momento disperato. Soffriva nel pianto, languia nel dolore, la speme e la vita riposi in un cor. L'istante di morte è giunto per me, quel core infedele ad altra si die. E vi pregherei di fare attenzione anche qui al tipo di colore che viene utilizzato per sottolineare questo momento che noi possiamo considerare tranquillamente il primo momento della pazzia di Lucia. Perché è qua che si rompe. Tutto il suo cuore comincia a creparsi, a ferirsi mortalmente in questo momento. Soprattutto con che scelta Donizetti distribuisce anche qua gli strumenti. Cranetto e Lobo è nella prima parte e poi entra il flauto. Vi prego di fare attenzione su che cosa entra il flauto, su che parola entra il flauto. E' meravigliosa questa entrata del flauto. Ed entra esattamente sul cuore infedele. Sull'aggettivo infedele al momento proprio di controcanto più evidenziato. Non può essere un caso. Sembra veramente che il flauto qui sia lo strumento premonitore della pazzia. Perché poi sappiamo che ruolo avrà nel seguito della pazzia. Però a questo proposito volevo raccontarvi una piccola divagazione. Spero che sia interessante. Proprio perché evidentemente l'idea del flauto... Sappiamo benissimo che il flauto fu un ripiego per Donizetti. La parte era stata pensata per l'armonica a bicchieri. Qua l'ascolterete con quello strumento così caratteristico che tra l'altro Donizetti aveva già usato ma in una chiave diciamo solo coloristica proprio di passaggio in un'opera precedente. Sempre tratta da Scott, guarda caso. E poi appunto Giuseppe Pezzi che era questo strumentista aveva avuto una questione. Pare proprio di carattere economico amministrativo col teatro. Per cui insomma all'ultimo momento aveva piantato in asso il teatro. In realtà Donizetti l'aveva pensata. Aveva scritto la parte per armonica a bicchieri o glassa armonica per usare il termine diciamo più moderno. E l'aveva anche pensata specificatamente perché ci sono alcune indicazioni nel manoscritto di carattere espressivo che non possono essere legate ad altro strumento che non una glassa armonica tipo l'indicazione oscillante, suono oscillante. Chiaramente il suono oscillante non può essere che per uno strumento di quel genere. A sfioramento appunto di quel genere. E poi appunto si passò al flauto. Il flauto poi è rimasto ed è diventato diciamo lo strumento così caratteristico e anche tutto sommato giusto. Nel senso che come la glassa armonica poteva esprimere con questo suono etereo sfuggente il fuori di sé del canto e della mente di Lucia. Così il flauto proprio che ha questa sua capacità proprio di esprimere un suono diverso diciamo. Non a caso appunto è uno strumento che sta un po' a parte anche nella dimensione dell'orchestra che non sempre si amalgama facilmente perché è diverso dai legni che sono gli altri fiati più facilmente omologabili proprio perché ha questo suono. Un suono metallico, un suono molto più sfuggente, un suono che va verso l'acuto con molta facilità. E' un suono che a suo modo è già disumano. Quindi evidentemente il cambio per Donigetti non è stata una rinuncia così forte. e noi ce ne rendiamo conto non soltanto ascoltandolo come funziona bene. Non soltanto l'ascoltandolo come funziona bene anche in quella mastodontica cadenza che noi siamo abituati oramai ad ascoltare che fa parte dell'opera ma che come benissimo sappiamo non è stata scritta da Donigetti ma venne poi interpolata da vari cantanti nell'Ibelba e altri cantanti nella seconda metà dell'Ottocento ma è diventata parte integrante ed è diventata parte integrante perché ha una sua funzione drammatica che corrisponde effettivamente a tutto il resto dell'opera. Però il fatto che Donigetti non fosse per niente scontento di aver utilizzato il flauto è dimostrato da un fatto al quale non si pensa spesso. Quando quattro anni dopo Donigetti riscrisse in parte Lucia per rappresentarla in un teatro piccolo di Parigi Lucia era già stata rappresentata in italiano al Teatro des Italiennes naturalmente però un altro piccolo teatro a un certo momento chiede a Donigetti di realizzare una versione francese. Questi teatri erano dei teatri tipo l'Opera Comico come la Volksoper di Vienna dove le opere si davano in traduzione si davano in traduzione e si davano anche con qualche aggiustamento aggiustamento di comodo soprattutto per rendere molto più facile la partecipazione e la comprensione immediata del pubblico. Ora, quando Donigetti rielabora la sua Lucia che diventa Lucie, in realtà non fa un'operazione di semplice traduzione. La Lucie andrebbe ascoltata, andrebbe eseguita più spesso perché è un'altra opera. Anche se per il 95% la musica è identica e ci sono delle semplici traduzioni, per il resto per quel 6-7% è un'altra opera. È un'altra opera intanto perché mancano due personaggi, Alice e Normanno vengono tolti, vengono sostituiti da questo stagliere di corte, una specie di Iago in miniatura, questo Gilbert, che si incarica di fare tutte le cose peggiori che si devono fare in queste situazioni ma che ha una funzione molto utile perché finisce per essere colui che raccorda i vari elementi della storia. Compare praticamente dappertutto di qua e di là spiegando sia nei ruoli... quindi il suo non è un ruolo passivo in fondo esornativo come quello di Normanno o di Alice, ma diventa un ruolo attivo. Ma poi ci sono quindi altre modifiche interne, c'è una modifica di carattere teatrale abbastanza, se vogliamo, ingenua, ma a suo modo molto forte che è il ritorno di Enrico nel finale. Enrico entra, ritorna nel finale e Edgardo gli dice se è arrivato troppo tardi perché mi sono già ammazzato da solo, perché lo sta cercando per fare quel famoso duello di cui si erano accordati ma in cui non si erano incontrati. È solo una battuta, ma teatralmente è sicuramente molto efficace. Ma la cosa più forte sicuramente dal punto di vista musicale è la prima scena, la prima scena è tutta riscritta, diciamo la prima scena di Lucia, in quanto Lucia non canta quello che abbiamo sentito, regnava nel silenzio, non canta quello, non canta nemmeno altre cose, ma canta un'altra aria tratta da un'altra opera, la Rosmondo d'Inghilterra. Era un'aria che alcune cantanti avevano già sostituito nelle esecuzioni successive alla prima napoletana, ma sulla quale sostituzione Donizetti non aveva opposto molto resistenza. E che quindi riprende, i librettisti francesi fanno una traduzione di quell'aria di Rosmondo, viene un po' aggiustata e quindi fino all'ingresso di Edgard abbiamo una scena completamente diversa. Manca la fonte, la fontana maledetta, manca la leggenda dello spettro, eccetera, eccetera, e quindi manca lo strumento caratteristico di quella scena, meraviglioso, che era l'arpa, come viene sostituito dal flauto. Il flauto diventa lo strumento guida di quella scena. L'introduzione, molto più breve, è fatta dal flauto e il flauto diventa lo strumento che dialoga con la voce. Ed è il flauto che, infatti, Emma Bovary ha sentito nel suo romanzo. Perché Emma Bovary, tutti leggono e tutti dicono, Emma Bovary a Ruyen ha sentito Lucia. Non è vero. Emma Bovary sentì Lucia. Sì, infatti, tutte le indicazioni musicali si riferiscono alla versione francese. Parla di Gilbert, che viene ricompensato con una borsa di denaro da Lucia, infatti è stato lui che ha combinato l'appuntamento con Edgardo. Parla del flauto, parla di una tonalità sol maggiore, che in realtà non è la tonalità della Lucia di Donizietti, ma di Lucie. Ci sono anche altre piccole caratteristiche, piccoli dettagli che si riferiscono alla versione francese. Quindi, questo per dire che per Donizietti questo cambio non fu un cambio negativo, nel senso che individuò comunque nel flauto lo strumento che gli ci voleva, che gli serviva in quel momento per dare proprio la sensazione di questa sorta di apertura, tragica apertura della mente che va da una parte e il sentimento dall'altra, di ragione la trasse amore, come canta il coro nella penultima scena. E quindi il flauto diventa effettivamente l'elemento. Però siccome, anche qua appunto torneremo alla versione originale, vi faccio sentire soltanto l'inizio, non tutta la scena perché altrimenti devo concludere, diventa troppo lungo, di come suona la armonica, la glassa armonica. L'introduzione, sentiamo soltanto appunto un momento del recettivo, del resto la scena della pazzia la conoscete tutti, l'amate tutti. Vi raccomanderei di ascoltarla ancora una volta, l'ennesima volta proprio leggendo il testo, perché è una meravigliosa, forse il più straordinario in questa opera, esempio di come una formula tradizionale, cioè quella che ormai era tradizionale, che era quella della pazzia, è una struttura che letta sul libretto sembra abbastanza regolare, in realtà la musica la reinventi completamente. Alla fine non capiamo se siamo sul recitativo, se c'è l'aria, se c'è un riferimento. È tutto veramente talmente libera la concezione di questa scena che fa veramente impressione. E a proposito di capacità della musica di far, anche inconsapevolmente, farci pensare ai ricordi, sovrapporre delle cose diverse, vi prego di prestare attenzione al fatto che comunque l'introduzione del flauto, della glassa armonica, in realtà a noi suona familiare. Ma perché è familiare? Perché è una specie di variazione melodica che regnava nel silenzio del primo atto. Quindi c'è un cerchio che, come tutta la vicenda di Lucia si deve concludere in quella scena, c'è anche un richiamo proprio molto preciso all'inizio della vicenda stessa. Allora, anche qua mi scuso se lo uccidiamo così ma è tardi. Volevo concludere con un'altra riflessione sempre legata all'ascolto e sempre legata all'importanza degli strumentali. Avete sentito come escano in questo recitativo in maniera straordinaria i violoncello. Il violoncello è un altro degli strumenti e di un pacchetto, diciamo, degli strumenti dell'orchestra importanti, Lucia. Per l'uso che ne fa Donizzetti e soprattutto per l'uso, anche qui che dicevo, coerente, che ritorna finché noi ci rendiamo conto che è uno strumento più importante, che accompagna determinati momenti in una maniera molto significativa. Il violoncello, o i violoncelli che qui ascoltiamo, è lo stesso che aveva ansimato all'entrata, prima del duetto di Enrico, quasi piangendo. È lo stesso che l'accompagna in quel momento tragico dell'ingresso nella sala del matrimonio. Ed è lo strumento che alla fine, ci rendiamo conto questo alla fine, porta per ultimo un messaggio d'amoroso. Perché è lo strumento con il quale inizia gli ultimi due minuti di musica dell'opera, ovvero la ripetizione di quella curiosissima, originalissima caballetta lenta che conclude l'opera della morte di Edgardo. Quando Edgardo si uccide, quando riprende la musica, non è lui che canta, ma è il violoncello. Anzi, sono due violoncelli soli, a cui poi si aggiungono tutti gli altri violoncelli, che introducono praticamente la stessa melodia nella prima parte della caballetta, in modo da dare la possibilità al cantante di interloquire basta, non deve più cantare perché sta morendo. Ed è anche quella una trovata meravigliosa, anche perché lo strumento delle pene diventa lo strumento nell'Ottocento, ma probabilmente è anche un modo legato a un altro fatto, di cui forse non ci rendiamo conto, o meno siamo talmente abituati che non ce ne rendiamo conto, che Lucia ha un'altra cosa curiosa rispetto a tutte le opere, o quasi tutte le opere di quel momento, delle opere di Donizetti, che non finisce con la donna. Tutte le altre opere del periodo, quasi tutte, finivano con la pazzia, con il rondò, con la cosa della protagonista femminile. In quest'opera non è così, si finisce invece con la morte del tenore. Ed è una novità non di poco conto. Perché? Perché non è soltanto un'idea drammatica importante per varie ragioni. La simbologia dell'amore, l'amore diciamo come perdita di se stesso, l'amore invece che viene causato da se stesso. I due mondi che si concludono l'uno vicino all'altro, anche con questa curiosa vicinanza fisica, il corteo funebre che esce da una parte e lui che si uccide a vista quasi. Si guardano nel momento stesso in cui uno è già morto e l'altro si sta dando la morte e via dicendo. Ma soprattutto perché crea uno bilanciamento quasi del baricentro drammatico dell'opera. Infatti, nell'Ottocento, Lucia non era l'opera dei soprani, ma era l'opera dei tenori. Erano i grandi tenori che avevano fatto di Lucia il loro cavallo di battaglia. In Francia, per esempio, Lucia, ma anche la versione italiana di Lucia, era tagliata in quattro atti in modo che l'ultimo atto era solo per il tenore. L'ultimo atto era solamente la scena del tenore. Tra i piccoli contrattempi che Donizetti dovette sopportare nella fase di preparazione della prima di Lucia al Teatro San Carlo, si sa di alcuni litigi con la prima donna. E non ce ne voleva mica sentire di quest'idea che non dovesse finire lei l'opera. Perché la Tacchinardi Persiani, tra l'altro straordinaria cantante, 23 anni, figlia di un grande cantante, e anche Dupré, che era 27-28 anni, al massimo della gloria. Quindi erano due belle prime donne. Quello che abbiamo ascoltato invece adesso era Anna Nettremco, a proposito di prime donne. Ed è una registrazione fatta in studio con Claudio Abbado nel 2004 a Reggio Emilia, con la Malle del Chamber Orchestra, chiusa parentesi. Dicevo, non ce ne voleva mica sentire di non finire l'opera. Eppure c'è un'idea molto precisa anche in questo. Uno, si chiude l'opera con, diciamo la parte più drammatica, vogliamo dirla, con tutto il rispetto per la follia di Lucia. Lucia impazzisce, uccide Arturo e muore. Muore perché non regge, come dice appunto Walter Scott. Le memorie, la drammaticità, la fiaccano nella mente e nel fisico. Ma pensate che cosa diversa, che cosa nuova, che è invece un protagonista che si uccide. Si uccide lì, davanti a tutti, con questa struttura drammatica nuova. Quindi questa è la prima novità. La seconda novità è legata al fatto di avere il tenore protagonista. Il tenore protagonista è una novità. I tenori, prima di Lucia di Lammerburg, erano dei cantanti che avevano delle parti molto complicate, molto forti, oggi tra l'altro molto complicate anche da rendere tecnicamente. Ma non avevano delle parti drammatiche. Perché? Perché erano ancora imitazione dei vecchi cantanti del Settecento spinte verso l'acuto. Il caso di Arturo, dei Puritani, visto appunto che sicuramente tutti lo ricordano, è un caso tipico. Soltanto Pavarotti dei bei tempi poteva fare Puritani, Arturo ed Edgardo. Perché effettivamente erano due parti diverse. Pavarotti ha fatto anche appunto Guiontel, Trovatore. Parliamo di Fenone, ma normalmente erano cantanti che allora invece appartenevano a due generazioni, a due tecniche diverse. Che erano tecniche ovviamente una portata a rafforzare la possibilità di andare verso l'acuto. E quindi l'acuto è una cosa meravigliosa che ci affascina moltissimo. Ma non è già la voce di tenore, come noi sappiamo benissimo, è una voce finta. Nel senso che è una voce artificiale, diversamente di quella di Beritano, artificiosa. Ma spinta così è una voce di testo, è una voce in cui è difficile dare qualcosa di realistico a questa voce, a un dramma. Mentre quando la voce scende e diventa di petto, in quella tessitura diventa il tenore drammatico. Il tenore drammatico, il tenore romantico per Antonomasia, in fondo nasce con Lucia. È da Lucia che soprattutto acquisisce la sicurezza di poter essere un protagonista. Sappiamo benissimo che lo stesso Verdi ci ha messo un po', ha dovuto arrivare a Dernani prima di fidarsi del tenore. Il tenore delle opere precedenti per esempio non ha un senso. Ma questa è la dimostrazione del tenore. Quindi il tenore non è soltanto una scelta casuale o legata alla struttura drammatico. È una scelta proprio che individua un futuro molto preciso su un personaggio vocale che sappiamo benissimo diventare quello più caratteristico, giusto o sbagliato che sia, di tutta l'opera successiva. Quindi il tenore. Difatti, ripeto, nell'Ottocento il tenore era l'opera per tenori, anzi per due categorie di tenori. Il tenore della bella morte e il tenore della maledizione. Ovvero il tenore che aveva un colore più bronze o più forte e quindi spiccava soprattutto nel finale del secondo atto e il tenore della bella morte, ovvero questo qua. Non voglio mettere malinconie parlando di morte e quindi però è un dato di fatto. Questo è veramente l'ultima in ordine di tempo, visto che finisce l'opera così grande invenzione di Donizetti, il tenore romantico. Il tenore romantico che alla fine appunto, che pur restando fedele all'idea di fare la sua aria, la scena, il tempo di mezzo, la cabaretta, tra la prima e la seconda parte della cabaretta si uccide, la seconda parte praticamente la singhiozza perché il suo canto lo sostengono i vironcelli. Buona Lucia a tutti. Ringraziamo davvero Angelo Foletto per le parole, preziose parole con tanti dettagli e spunti. Grazie a tutti, ha reso il più brillante il gioiello che è Lucia di Lammermoor. Grazie davvero. La produzione, non l'ho ricordato, ma vede la regia di Damiano Micheletto, molto interessante, Giorno Andrea Lozella sul podio. Il cast che eseguirà l'opera a Torino la eseguirà anche a fine maggio in tournée, è interessante saperlo e ricordarlo, a Parigi e a Essen, proprio mentre qui invece avremo l'esecuzione di Pollicino di Hense che avrà peraltro la sua presentazione qui il 25 maggio. Quindi buona Lucia e a presto.